Noi oggi siamo qui in tante e in tanti, siamo qui con moltissime associazioni, siamo qui perché crediamo che più occupazione femminile significa più crescita di tutta la società, più sviluppo, più figli, migliore conciliazione, quindi che più occupazione femminile sia un avanzamento per tutta la società. Quindi siamo qui a chiedere al governo di fare in modo che nel Codice Appalti si continui a garantire la parte di occupazione femminile così come era previsto nel Codice Appalti. Questa era stata un'innovazione importante e toglierla prima ancora ad attuarla significa non capire davvero quanto l'occupazione femminile faccia andare avanti tutto il Paese.